I.D.S. Oggi non esiste ancora una cura efficace, ma per fortuna non è facile ammalarsi di I.D.S. Dipende dai nostri comportamenti. L'I.D.S. non si trasmette con un bacio o con una stretta di mano, scambiandosi un bicchiere o usando le stesse posate. L'I.D.S. non si trasmette conducendo una normale vita di coppia, ma si trasmette attraverso rapporti sessuali con persone già infette. Per questo è meglio evitare rapporti sessuali occasionali con persone sconosciute e comunque in quei casi cercare almeno di proteggersi col profilattico. L'I.D.S. si trasmette attraverso sangue infetto, per questo mai più siringhe usate. I.D.S. se lo conosci lo eviti. I.D.S. se lo conosci non ti uccide.